hashtag noi amiamo gli animali il cane gira su se stesso quando deve sdraiarsi ecco perché a quanti di voi è capitato almeno una volta notare comportamenti strani nel vostro cane tra i tanti ai più attenti non sarà passato inosservato che prima di addormentarsi comodo comodo sul nostro divano fido tende a girare su se stesso in questo nuovo video pensato per voi dalla redazione di amore a quattro zampe scopriamo insieme le motivazioni di questo strano atteggiamento del nostro fedele amico quattro zampe è un gesto istintivo che parte dall'antenato lupo il lupo si rigirava prima di accucciarsi per liberare il terreno da corpi estranei come rami o foglie il cane dal canto suo lo fa per rendere più comoda la sua cuccia qualunque essa sia ma anche per controllare e di conseguenza allontanare la presenza di insetti che potrebbero attaccarlo durante il suo pisolino vi sembrerà strano ma rigirarsi su se stessi è utile anche per non patire il caldo e il freddo in questo modo infatti il cane può capire da che parte tira il vento e posizionarsi di conseguenza anche in base alla stagione non bisogna dimenticare infine che stiamo parlando di un animale che come molti altri tende a marcare il suo territorio rilasciando dei feromoni quale tecnica migliore se non quella di rigirarsi per marcare la sua cuccia in questo modo può star certo che nessun altro potrà occupargli il suo posto per questo video è proprio tutto scopri di più di questo strano comportamento del cane e se e quando serve preoccuparsi nel link al nostro sito presente nel box informazioni sotto il video avete notato anche voi questo comportamento nel vostro cane faccelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a quattro zante ciao ciao ciao